Ci sono novità per Capocolonna? Per Capocolonna ci sono novità, il progetto sta andando avanti, si è scelta la tipologia della barriera radente, quindi per avere meno impatto ambientale possibile, si sta pensando sulla natura dei massi da depositare, quindi potrebbe essere mista, artificiali, con chiaramente caratteristiche naturali e naturali. Ricordiamo che ci vogliono massi di una certa entità, di un certo volume. Il progetto è in fase definitiva avanzata, dopo gli studi che sono stati fatti, ricordiamoci che è un ecosistema molto delicato, quindi si è dovuto fare l'analisi delle correnti marine, quindi sono più indagini in corso, batimetriche, sembra tutto che questa parte sia conclusa, abbiamo fatto un tavolo tecnico il mese scorso su questo tema e la Regione ci ha garantito tempi fattibili e tempi certi non troppo lunghi, perché sappiamo che se si allungano troppi i tempi potremmo avere dei danni irreparabili per tutto il promontorio. Intanto anche il Ministero ha approntato il suo progetto, quindi interverrà prima della Regione Calabria, per garantire l'aria dietro la chiesetta, quindi lo stretto perimetro alle spalle del santuario. Farà una piccola barriera radente anche il Ministero, a cui poi si aggiungerà l'opera più grossa della Regione Calabria. Noi stiamo sollecitando questo intervento, ripeto, nei tempi, perché i tempi sono fondamentali.